Le pubbliche amministrazioni, invece di pensare ad arricchirsi, diano il buon esempio ai cittadini. Questo è il monito del PM della Direzione Distrittuale Antimapia, Francesco Soviero. Soviero, intervenuto a convegno promosso dall'Istituto Tecnico Economico Amabile sulla normativa anticorruzione, ha ribadito l'allarme lanciato tempo fa sul marcio del malappare che, in alcuni casi, come dimostrato anche dalle inchieste, condotte in impegna, si nasconde nelle pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni, quindi, quale buon esempio dovrebbero dare, visto che parliamo ai giovani oggi? Questo ha detto un termine giusto, il buon esempio. La classe dirigente in Italia, in Campania, in Avellino, deve dare il buon esempio. I pubblici amministratori a vario livello devono essere impermeabili alle lusinghe della criminalità e alla pressione della criminalità. Fare l'amministratore pubblico, insomma, è un onere, ma deve essere visto come un servizio per la collettività. Non ci si arricchisce per fare queste attività. D'accordo con il procuratore capo di Avellino Cantelmo, che ha ricamato la città, nel senso che ha detto che questa è una città dove spesso si fa scivolare le cose addosso. Io questa domanda la girerei anche per quanto riguarda l'atteggiamento degli amministratori. Guardi, Avellino è una bella realtà, è una città viva dal punto di vista culturale, sociale e anche economico. Ed è un peccato che a volte ci siano appunto delle forme di malaffare o di malcostume, queste devono essere sanzionate. Il senso della nostra presenza, della nostra testimonianza anche qui è questo, quello di far capire che se le regole ci sono e sono rispettate viviamo tutti meglio, abbiamo anche delle prospettive migliori, anche per il futuro dei nostri giovani, dei nostri figli. Nel Mirino di Soviero, a un anno di distanza dall'inaugurazione del maglificio 115 passi, finiscono anche gli amministratori del Vallo di Lauro, assenti sul caso. Certo, quello è un aspetto importante, il recupero dei beni confiscati alla criminalità organizzata è una rivincita dello Stato. E' stato possibile realizzare questa iniziativa nella villa confiscata a Graziano, appunto nel Vallo di Lauro, però con mille difficoltà. Perché riutilizzare, recuperare questi beni, a volte in Italia è difficile, le regole a volte diventano troppo burocratiche, troppo farraginose, per cui ci sono anche dei rischi concreti per piccole aziende che vengono insediate in questi siti con il rischio di chiudere. E non deve essere così, perché ci deve essere sostegno anche dello Stato per far andare avanti queste realtà. Quindi anche degli amministratori del Vallo di Lauro? Sì, sicuramente, gli amministratori non si devono girare dall'altra parte, gli amministratori sono lo Stato, devono stare da una parte lo Stato, un certo dei delinquenti, ed è così. Ci sono naturalmente a volte delle eccezioni, ma queste devono essere appunto sanzionate.